Grazie a tutti. Quindi lo diamo già per definito e per acquisito. Come possiamo sdoganarla? Come possiamo farla uscire fuori, farla vedere, renderla evidente e poterla gestire meglio? Due sono i filoni fondamentali, ritengo. Uno è quello della ricerca, sulla quale si punta molto e che tende a voler dare un futuro ai malati di SLA e ai futuri malati di SLA. L'altro filone, certamente importante, è quello dell'organizzazione di una rete assistenziale che invece si ponga all'obiettivo di dare un presente, di riuscire a dare una migliore qualità di vita a questi pazienti. In queste due ottiche si organizza la giornata di oggi. La prima fase in cui abbiamo due relatori di livello nazionale, ma poi li sentirete parlare e saranno loro stessi a dimostrare il loro valore. Il dottor Calvo, che lavora con il professor Chio a Torino, sono i responsabili del centro di riferimento per il Piemonte. E la dottoressa Mandrioli, che oggi ho il piacere di ascoltarla per la terza volta in due mesi, le volte precedenti ha detto cose diverse. Cioè, diverse nel senso di ogni volta ho imparato qualcosa in più, oggi sono certo che imparerò ancora qualcos'altro. E che è la responsabile invece del centro di riferimento regionale per la SLA, animatrici di un gruppo di lavoro che attualmente in regione, insomma ci sono scambi di mail continui, che sta lavorando attualmente per un problema legato a un nuovo farmaco che è alla modalità di dispensazione e di somministrazione di questo farmaco, che impongono anche delle scelte di tipo organizzativo all'interno delle strutture ospedalieri. Comunque, io non chiacchiero più, darei la parola al dottor Calvo, che ci parlerà della storia e della clinica. Situazioni estremamente importanti ed in evoluzione con un'epidemiologia che è un po' in movimento rispetto alla malattia. Allora, intanto grazie mille, sono molto contento di essere qua, perché ho conosciuto Fabio e la moglie che ho salutato questa mattina e spero di riuscire a parlargli anche oggi, so che forse riusciamo a collegarci. Io non vengo a insegnarvi nulla, perché arriva uno da lontano e viene a insegnare qualcosa, no. Io vengo a raccontarvi un po' di cose che riguardano, il mio compito è quello di spiegare un po' la malattia, cioè di introdurla dal punto di vista di che cos'è, diciamo cercando di dare un po' quelle che sono le novità rispetto alle conoscenze sulla malattia. Diciamo che le cose stanno cambiando, anche come noi consideriamo quella che chiamiamo sclerosia terraria miotrofica. E sicuramente, ah no, ho sbagliato, scusatemi, ok, sicuramente, sì vado giù, ah con questo, ok. Di cosa stiamo parlando dal punto di vista epidemiologico? Quali sono i numeri? È stato già accennato, stiamo parlando di una malattia rara. È una malattia rara? Sapete che il concetto di malattia rara è un concetto arbitrario che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito essere sul base della prevalenza, cioè quanti casi ci sono in un posto, in una zona, se sono sotto i 5 su 10 mila abitanti si definisce questa malattia rara. Sicuramente la SLA è sotto questo, però noi dobbiamo considerare un altro aspetto, ed è quello che fa, diciamo, avere la sensazione che la malattia non sia così rara, prima di tutto perché quando ci si imbatte su questa malattia si comincia ad aprire gli occhi e vedere che non c'è solo il singolo caso, ma ce ne sono molti altri, e poi la sensazione che ci sia un aumento di questa malattia nella popolazione. Intanto è una malattia che, questo è il lavoro del registro piemottese fino al 2004, aveva un'incidenza intorno ai 3 su 100 mila abitanti, sostanzialmente in una regione come quella del Piemonte ci sono circa 140 casi nuovi all'anno e fino al 2004 400 pazienti circa. Vedete c'è un dato, questa è una malattia probabilmente età correlata, e non invecchiamento correlato come altre patologie neurodegenerative, quindi questa è già una caratteristica particolare, colpisce intorno a 65 anni, può colpire prima in modo più raro o dopo in modo più raro. Ma se noi facciamo un calcolo statistico vediamo che in realtà il rischio di avere questa malattia non è così basso, il rischio è di 1 su 278 maschi, quindi se noi abbiamo una sala con 300 persone di sesso maschile, forse più di una ha il rischio di sviluppare la sala nella sua vita. Questi sono i 20 anni di registro, abbiamo visto che il trend in effetti è in lieve aumento, oggi abbiamo un'incidenza che è un pochino più alta rispetto ai 2,9, siamo ai 3,1 su 100 mila abitanti e soprattutto si sta appianando quella che era la differenza tra maschi e femmine. Quindi vedete evolve la ricerca, evolvono le informazioni su questa patologia. Rimane diciamo abbastanza stabile la questione che la malattia è una malattia di fatto nel mondo occidentale abbastanza omogenea, non vi sono delle zone del mondo occidentale che hanno una incidenza più alta rispetto ad altre zone, diciamo che dove i registri sono più efficaci ne abbiamo un dato un pochino più alto ma perché i registri riescono a cogliere tutti i casi esistenti. Però bisogna dire un'altra cosa, che sono state fatte delle previsioni e le previsioni sono di un aumento di questa malattia nei prossimi anni, sia nel mondo occidentale, che se sono le previsioni rispetto alla prevalenza e all'incidenza della malattia in Europa, quindi vedete che c'è proprio un trend in aumento per la prospettiva rispetto al presente, al retrospettico, ma soprattutto nel mondo. Nel mondo noi abbiamo una previsione rispetto ai dati che si hanno e che si prevedono rispetto anche all'aspettativa di vita del mondo non occidentale, cioè quello che è il mondo in sviluppo, quindi paesi in via di sviluppo, una previsione di un aumento importante della patologia. Nel 2040 avremmo veramente quasi il 50% di malati in più nel mondo. Quindi questa è già un'informazione importante. L'altro cambiamento di visione della patologia è rispetto alla definizione. Noi e voi, tutti quanti quelli che si occupano di questa patologia, si accorgono di quanto sia variabile, è variabile come esordio, è variabile come forma, è variabile come decorso, oh mamma mia ma quel paziente è durato così poco, quell'altro invece è ancora vivo e sta bene. La malattia si definisce, secondo quello che c'è scritto sui libri, che è una malattia abbastanza semplice. In realtà è la malattia del primo e del secondo motoneurone, il primo motoneurone è quello che parte dalla corteccia motoria e il secondo è che è quella che parte o dai nuclei dei nervi cranici o dalle corne anteriore del midollo e va direttamente ai muscoli. È una malattia relativamente semplice, secondo la definizione base, che è quella che nasce dalla storia. E la storia qual è? La storia è questa. La storia già nasce come una malattia che non era univoca. Questo è Charcot, uno dei grandi padri della neurologia. Questo è Duchenne, Arang, i grandi padri. I grandi padri avevano descritto malattie diverse che poi nel tempo sono state unificate in quelle che sono le malattie del motoneurone. Noi facciamo la diagnosi di SLA e mettiamo dentro questa diagnosi le malattie del motoneurone. Quindi le forme di solo secondo, le forme di solo bulbari, le forme solo di primo motoneurone o la classica forma di scherosi laterale miotrofica che è quella che è la descrizione. Tra l'altro vedete come è una malattia vecchia come descrizione. Oggi stiamo sdoganando una malattia che conosciamo da 150 anni e la definizione di Charcot, tra l'altro, è una definizione molto precisa. Da Charcot sbagliò solo per due aspetti, l'aspetto genetico e l'aspetto cognitivo che lui non colse allora. Ma per il resto è perfettamente adeguata e è tuttora valida. Cosa succede? Che riuniamo e cominciamo a ragionare unendo la malattia. Oggi siamo di nuovo a dividere la malattia in molte forme, sia per aspetti genetici, sia per presenza di disturbi cognitivi, sia per meccanismi patogenetici, sia per lo spettro tra la SLA e la demenza frontotemporale, vedremo, e sia per i fenotipi clinici, cioè le manifestazioni diverse. Un po' come spiegava Popper, quello che è vero oggi non sarà vero domani. Quindi, in questi vent'anni, io ho sentito veramente cambiare completamente la visione di questa patologia. E gli spettri clinici sono veramente molto diversi. Sono appunto forme di solo secondo motoneurone agli arti, solo di primo motoneurone, le forme bulvari, le forme che colpiscono solo gli arti superiori, eccetera. Vedremo anche questa cosa in un modo leggermente più dettagliato. Ma perché è importante dividere questi fenotipi? Non è solo curiosità, è solo il fatto che così io li chiamo meglio? No, perché ogni fenotipo è stato associato a un decorso diverso. La malattia va in modo diverso a seconda del fatto che noi siamo in grado di descrivere sul nostro malato il fenotipo corretto. Se noi siamo in grado di fare questo, lo saremo sempre di più, perché abbiamo delle tecniche diagnostiche che ci aiutano, sia di tipo di neuroimmagine, di analisi genetica e di capacità clinica di descrivere, possiamo fare una prognosi più precisa. Fino a qualche tempo fa, il discorso che si faceva al malato, e tuttora si fa ancora, è che una prognosi precisa non riusciamo a farla. Possiamo fare un discorso di media. In realtà oggi potremo e possiamo sbilanciarci un po' di più rispetto alla prognosi se il fenotipo, cioè la manifestazione del malato, è di un certo tipo. E questo si vede anche a livello europeo. Questo è uno studio nostro, questo è uno studio anche di altri registri. Un altro aspetto importante che è cambiato negli ultimi tempi è la presenza di disturbi cognitivi. Questa che era un po' la descrizione di Charcot, non si trova l'argomento della demenza. Noi abbiamo questo altro spettro, che è un continuum, si definisce un continuum, tra una SLA classica senza nessun disturbo cognitivo e una SLA con demenza frontotemporale. Qual è la percentuale? La percentuale non è molto alta di questa forma, è intorno al 10%. Che cosa c'è tra la demenza da un lato e la SLA senza demenza? C'è un continuum di presenza più o meno intensa di disturbi cognitivi della sfera frontotemporale. Vedremo un attimino meglio a cosa si tratta. Sostanzialmente di un deterioramento cognitivo non Alzheimer, quindi non quello caratteristico del perdito di memoria. Il nostro malato con la SLA che mostra disturbi cognitivi sostanzialmente ha un cambiamento un po' del carattere, della personalità, ha difficoltà ad adattarsi a alcune situazioni, tende a essere un po' apatico. Vedremo un attimino meglio questo aspetto. E questo è confermato anche dal fatto che vi sono una serie di geni che sono associati alla demenza frontotemporale, ma anche alla SLA, la proteina TTP43 che si accumula, ma anche geni che hanno una caratteristica di frequenza molto alta in pazienti con solo demenza, come il gene C9-ORF o in presenza di SLA senza demenza, sempre C9-ORF. Vedete come se facciamo uno studio di centro, di registro, possiamo dire che senza nessun disturbo cognitivo è solo il 50% dei nostri malati che ha la demenza solo il 12%, ma poi vi sono una serie di altre caratteristiche di pazienti che se noi andiamo a indagare con una serie di test, riusciamo a tirare fuori. Anche qui è solo curiosità, è solo qualcosa che ha un impatto rispetto alla ricerca oppure ha un'utilità. È utile perché chi presenta questo tipo di disturbi senza anche una franca demenza ha una prognosi peggiore, perché ha una difficoltà ad adattarsi agli strumenti, alle terapie, alla ventilazione per esempio. L'altro grande capitolo che ha cambiato radicalmente la visione, la storia della SLA dal punto di vista sia della ricerca, ma che poi si sta applicando sempre di più, ne parlerà anche sicuramente la dottoressa Mandrioli sulla terapia, è la genetica. Charcot non aveva colto l'aspetto genetico, questi sono 100 malati, di questi 100 malati, questi blu sono le forme sporadiche, cioè quelle che non hanno una familiarità, gli altri, quelli colorati, sono le forme che hanno una familiarità. Delle forme che hanno una familiarità noi siamo in grado più o meno di definire il gene in circa 60-70%, esistono ancora una serie di casi familiari, che hanno più casi nella famiglia, cui il gene è sconosciuto, quindi stiamo colmando questi quadratini. Molti però anche dei casi sporadici possono presentare una mutazione che non era nota nella famiglia senza familiarità, è molto meno probabile. Certamente quindi vi sono delle forme puramente genetiche, ma quello che riguarda probabilmente la maggior parte dei malati è l'interazione tra la genetica e l'ambiente o l'interagazione tra geni, di questo ne parlerà sicuramente anche Jessica. Vedete, questo è un diagramma, senza che non si legge sicuramente, che fa vedere l'espansione della ricerca genetica in queste patologie ed è abbastanza analoga a quella di altre patologie neurologiche. Vedete come nel 1993 viene identificato il primo gene, il gene associato a forme familiari, che è il gene della superossido di smutasi 1, la SOD. Da qui in poi c'è stata un po' di difficoltà fino al 2006-2007, da qui c'è stata una crescita esponenziale di geni scoperti associati alla patologia. Questo chiaramente ha un'implicazione sia di conoscenze dei meccanismi che portano alla morte del motoneurone, sia eventualmente terapeutici. Questo è una diapositiva che farà vedere anche Jessica, ci fa poi cercare di capire come mai così tanti geni diversi portano a una stessa malattia, dal punto di vista fenotipico, di prognosi, di decorso. C'è un'interazione tra questi geni, il lavoro che si farà in questi dieci anni sarà proprio quello di mettere insieme tutte queste informazioni per poter capire qual è l'interazione tra i vari geni, e qui si parliamo di DNA, e poi tutto quello che è l'interazione con l'RNA, cioè quello che è la trascrizione del gene che poi diventa pratico nella cellula. Si può vedere che molti di questi geni possono essere più o meno associati a demenza frontontemporale, quindi cominciamo a spiegare sempre di più questo continuum. E l'altro grosso capitolo è quello del DNA di quei quadratini blu. Quei DNA di quei quadratini blu, cioè dei pazienti che non sono familiari, non è ereditato e tramandato come causa di malattia, ma certamente avrà un ruolo sia nello sviluppo della malattia, sia nel fatto che questa sia più o meno grave, cioè abbia un fenotipo diverso, cioè ci sono i geni di suscettibilità, cioè quello che modifica la malattia nel singolo malato. Questa è la vera sfida, perché stiamo parlando di una mole di dati incredibile. Il progetto MINE, che è un progetto mondiale di sequenziamento genomico che stiamo affrontando con difficoltà economica, ma l'Italia è dentro questo progetto, sta proprio cercando di sequenziare il genoma di tutti i nostri malati, che porta però a una mole di dati che attualmente non è contenibile in nessun computer. Dobbiamo metterlo su una nuvola e dobbiamo far crescere ragazzi giovani che siano in grado di elaborare questa incredibile mole di dati. Andiamo dal punto di vista un pochino più pratico. La SLA, a questo punto che abbiamo visto un po' gli aspetti più importanti, quello dell'epidemiologia, quello del fatto che ci sono delle novità dal punto di vista anche clinico, della capacità di differenziarli e della genetica, di fatto poi dal punto di vista pratico è una malattia che ha una serie di impatti. Che cosa colpisce? Colpisce una serie di funzioni e queste funzioni sono le funzioni della motilità, della deglutizione, della fonazione, della comunicazione, della respirazione. Oggi abbiamo aggiunto la cognitività e tutto in una impredibilità del decorso. Speriamo di ridurre sempre di più questa impredibilità grazie al fatto che riusciamo a definire meglio il fenotipo. Noi abbiamo ancora dei criteri diagnostici validi che sono quelli di E.L.E. Scorial. Si sta lavorando appunto a modificare questi criteri proprio sulla base del fatto che stiamo cambiando il concetto di una singola malattia. La SLA ha una sindrome e sotto questa sindrome ci sono diverse malattie. Però di fatto i sintomi sono quelli legati al secondo motoneurone, quindi quelli dell'atrofia del muscolo, delle fascicolazioni, dei crampi e della debolezza del singolo muscolo e quelli del primo motoneurone, cioè l'impaccio motorio, la spasticità, il clono e una serie di altri sintomi che sono quelli del distretto bulbare, quindi la disfagia, la disartria, la disfonia, i disturbi respiratori, la dispnea e poi tutta una serie di altri disturbi e sintomi e segni che possiamo associare come conseguenza di un coinvolgimento di un distretto del nostro corpo, come disturbi respiratori di tipo restrittivo portano poi per esempio alla sonnolenza, al mal di testa mattutino eccetera. Vi sono appunto diversi fenotipi, quelli che possono avere appunto soprattutto le braccia che sono flaccide, le flail arm o il man in the bar, l'uomo nel barile, quindi che è distrettualizzato solo dagli arti superiori con un secondo motoneurone, le forme diciamo bulbare con la caduta della testa che spesso possono essere associati a un gene, per esempio la mutazione del gene FUS e le forme, le flail leg, le forme prevalentemente bulbare con l'atrofia della lingua e così via. Mi soffermerei solo un secondo su quelle che sono le caratteristiche cliniche della demenza frontotemporale o dei disturbi della sfera frontotemporale, quindi non devono essere presenti tutti per forza ma possono essere presenti in modo frusto diciamo, che sono i disturbi del comportamento, quindi il declino dell'igiene, l'inadeguatezza del paziente al contesto, il fatto di diventare un pochino rigido, un pochino ossessivo, un pochino perseverante e non essere in grado appunto di adattarsi a alcuni strumenti, quindi questa che è la sindrome disesecutiva, un'apatia, quindi un disturbo dell'affettività che diventa appunto inadeguata o addirittura un eccesso di euforia in contesti diciamo depressivi o viceversa e i disturbi del linguaggio. L'esordio della malattia avviene in modo casuale, più o meno nel 30% dei casi agli arti superiori e agli arti inferiori al distretto bulbare, l'1-2% dei casi può esordire con l'interessamento dei muscoli respiratori e questo porta chiaramente a una difficoltà diagnostica, quante volte è successo purtroppo di fare una diagnosi col paziente già intubato perché il suo unico sintomo era una difficoltà respiratoria, poter definire un pronto soccorso come sospetto che un paziente con un problema respiratorio e senza nessun altro segno possa avere un ASLA è molto difficile. Andiamo avanti. Il decorso clinico. Il decorso clinico è progressivo per definizione, è chiaro che cambia molto a seconda del fenotipo. Però diciamo che noi possiamo definire una fase lieve, una fase media, una fase grave che però è molto diversa da seconda del fenotipo perché io potrei avere una fase lieve con un problema a una mano oppure una fase lieve con un problema del fatto che mi scappa la S o la R nel momento in cui parlo e magari mi va un po' per attraverso l'acqua. E' così come una fase intermedia in cui io parlo perfettamente ma non riesco più a utilizzare gli arti superiori e quindi dobbiamo in qualche modo non generalizzare la definizione dello stadio della malattia ma certamente siamo anche in un contesto burocratico che ci impone di stadiare la malattia anche perché adesso esistono anche dei contributi ad hoc e quindi è un discorso che deve farci pensare alla variabilità di malattia. Perché noi abbiamo una progressione di questi sintomi? Questa è un'altra delle novità rivoluzionarie nella nostra testa di ricercatori rispetto alla malattia. La malattia è una malattia che comincia in un distretto e poi tende a propagarsi per contiguità. Anche se esistono dei casi che hanno un esordio molto distante da un segno all'altro, tendenzialmente la malattia tende o nel midollo o nel cervello a avere una progressione per contiguità e questo ha portato a delle ipotesi e sono state fatte delle ipotesi di una malattia che è simile alle malattie prioniche. Voi sapete che le malattie prioniche sono le malattie della mucca pazza, cioè le malattie di enceofraptite spongiformi, che sono le malattie che hanno un'alterazione di una proteina che quando cambia la sua conformazione e viene in contatto con una proteina vicina, cambia la conformazione della proteina vicina e quindi per contiguità propaga la malattia. E' una delle ipotesi più interessanti che di fatto la malattia abbia una propagazione per contiguità legata a un'alterazione delle proteine. Questo lo vediamo anche per studi di neuroimmagine e di studi di medicina nucleare. Possiamo fare una prognosi? Oggi siamo un pochino più capaci. Ci sono dei fattori prognostici, l'età all'esordio, il fatto di essere eseguiti da dei centri, il fatto di avere o meno delle turbe respiratorie, di disturbi cognitivi. Oggi abbiamo analizzato e studiato una serie di fattori che ci aiutano nella pratica clinica ed è utile in effetti conoscere questi fattori. Abbiamo tutti questi fenotipi, però oggi ancora li mettiamo sotto il nome di SLA. Probabilmente nel prossimo futuro, non molto lontano, utilizzeremo degli altri nomi per definire in modo preciso queste forme. Sto finendo, la SLA è una malattia che per tutte queste caratteristiche che sembrano molto lontane dalla ricerca, da questi numeri fino poi alla pratica clinica, alla fine porta delle scelte. Le scelte sono legate anche allo stato, allo stadio della malattia. Noi abbiamo di nuovo, questo è un altro modo per far vedere la progressione dello stadio di malattia, qui noi abbiamo una fase di esordio, una fase di diagnosi presa in carico, una fase in cui vengono fatte delle scelte, che non sono la fase di fine vita questa, può essere la fase di fine vita può non esserla, in cui noi possiamo avere chiaramente una minima disabilità, una più grave, una molto grave e quindi anche il setting del malato che è ambulatoriale poi diventa domiciliare o di struttura. Abbiamo poi, questo lo farà vedere anche la dottoressa Jessica, una fase che è adeguata a provare delle sperimentazioni cliniche ed è una fase più adeguata a valutare la terapia dei sintomi. Qui vi sono tutta una serie di aspetti etici, gli aspetti etici sono quelli anche solo della comunicazione della diagnosi, esiste una letteratura importante su come, dove, quando dare le notizie e queste notizie sono spesso cattive notizie, bisogna essere in grado di darle e come darle ed è un aspetto molto importante. Oggi a questa comunicazione si è aggiunto l'informazione della genetica, l'informazione della genetica prima non c'era, oggi dobbiamo imparare a gestire il dato della genetica. Oggi ci sono i trial, ci sono i nuovi farmaci, come, dove, perché, perché un paziente può farlo, perché un paziente non può farlo, è comunque un aspetto che non è solo pratico ma anche etico rispetto al malato. Le scelte terapeutiche rispetto a terapie alternative, come comportarsi rispetto al malato che dice io voglio fare quest'altra cosa, mi hanno raccontato quest'altra cosa ancora e poi ovviamente le scelte di fine vita, è stato approvato da pochissimo il testamento biologico, siamo in una fase in realtà legislativa che dal punto di vista però pratico, in realtà chi si occupa di questa malattia, Jessica me lo confermerà, non ci cambia nulla, nel senso che noi ci siamo sempre comportati esattamente nello stesso modo in cui ci si comporta ora con una legge un pochino più definita. In questa serie di collaborazioni che noi abbiamo vi lascio con un'immagine del Piemonte, del mio paese, che è Corteranzo, che vede un viso là dietro ma qua è anche molto bello. Grazie. 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 Grazie.